Juanito, io devo lavorare. Me lasci lavorare, Quani? Quani, saluta Viviana. Ciao, Viviana. Viviana, non me lascia lavorare, te giuro, è una cosa impossibile, tutto il tempo vuole coccole, vuole stare sopra di me. Ok, Quani, saluta Viviana e lasciami lavorare. Vai, vai, vai. Che facciamo? No, sui documenti no. Dai, dai, fammi lavorare, Juanito. Ecco, vedi, se mette qua? Va bene, ciao. Bye. Bye.